Si è tenuta a Palazzo Medici Riccardi la presentazione dell'iniziativa Pillole di Movimento. La campagna nazionale della WISP per il contrasto alla sedentarietà e la promozione della cultura del movimento sbarca così anche a Firenze. Le pillole di movimento sono delle confezioni similari a quelle dei farmaci, ma contengono coupon gratuiti che permettono di scegliere fra una rosa di decine di attività sportive e motorie, potendo usufruire di un mese gratuito di attività fisica. Verranno consegnate dal farmacista così come un qualsiasi medicinale. Il progetto dell'Unione Italiana Sport per Tutti conta nell'area fiorentina sul supporto della città metropolitana e di 53 farmacie dei circuiti Federpharma, Cispel e Lloyds. Siamo stati impegnati durante l'emergenza sanitaria a tenere viva in ogni modo l'attività sportiva come veicolo di benessere e scuola di educazione alla sanità e alle relazioni umane, sottolinea Nicola Armentano, consigliere della città metropolitana di Firenze e delegato allo sport. Queste pillole rappresentano un'ottima medicina mentre vediamo l'uscita in fondo al tunnel della pandemia. Sono un incoraggiamento contro la sedentarietà e portano un duplice sollievo a chi le prende e a chi le offre per una piena ripresa degli impianti, ha detto infine Armentano. Sono 15.000 le confezioni che saranno distribuite nei comuni dove è possibile svolgere le attività sportive e motorie. Sono coinvolti nel progetto 12 comuni dell'area fiorentina, Firenze, Tavarnelle, Valdipesa, Bagno a Ripoli, Figline Valdarno, Calenzano, Borgo San Lorenzo, Fiesole, Scandici, Reggello, Lastra, Signa, Signa, San Casciano e Valdipesa. Sono invece 22 le associazioni e le società sportive che hanno aderito all'iniziativa. La durata di pillole di movimento è fino al 31 maggio 2022. La campagna nazionale coinvolge 235 comuni e 31 comitati WISP in tutta Italia. Il progetto, nato a Bologna nel 2010 e finanziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello Sport, prevede la distribuzione di 480.000 confezioni di pillole di movimento. Grazie a tutti.